Quando i bardaci stanno a fare, perché gli appensa che quando è l'ora di appenzione, rimane l'assenza gli bardaci ormai ossa, che affadegano gliene a s'ammaginata, già da tempo, che sarà un tormento tutti i bardaci dicono, a chi comanda non c'è toccato le pensioni, che Dio ve scanna non ve basta manco quelli, che ve fa sta più tranquilli per un'altra cinque generazio, e spero anche qualche operazio allora non c'è duemo la menta, se li guardasci non vuole manco studiare e tanto meno, che c'è se voglia di infadigare si guardasci il cao, a chi comanda su sa faccenda a loro miga e sta bene quarant'anni infadiga per te, bisogna trovare una soluzione tu hai infadigato solo vent'anni e li bucchiati per un'antricento, facendo anche gli danni si guardasci, e ha capito tutto, sugli sorti soprattutto e ade brutto, qui si dè sicuro non starà sotto lo pioia scopà, non c'è pensà come no, sicuro loro prima che tutte le inguli, ha fatto a tempo anche a cacciarsi lì, rimbioli e non fa la fine dell'immuolo no va fa, no va fa questi vandasci Luca U, a chi comanda su sa faccenda a loro miga e sta bene quarant'anni infadiga per te, bisogna trovare una soluzione oh, infadigato solo vent'anni e li bucchiati per un'antricento facendo anche gli danni la meglio ce l'ha solo è meglio, è meglio, è meglio ma se può infadigare vent'anni è pieno l'impiazzo e mezzo dietro eh, se basta sti guardasci DJ, sti guardasci Luca sti guardasci DJ oh, qui non cambia niente ma qua non qui si luccherà oh, contro sa i andy ma fra di allora qui c'è da nascondi tra le maragghelle etra le froni e poi capì a questi lì che c'è da guadagnare se le di quadri lì guardasci va E non vi era pensione Ma quando mai Li guardaci Luca E non la viere della pensione Non abbiamo mai fatto due anni un problema Guardi ancora dovete cominciare capitano Guardi che abbiamo cominciato C'è rimasta ancora la metà Non abbiamo abenzione Però è essenziale che qui là di via 30.000 euro un quese Bravi, bravi, bravi Siete proprio forti Abenzione, si asciuga loro Abenzione, si asciuga loro